Un terremoto superficiale di magnitudo 5.8 colpito l'isola di Tapat situata nel mare delle Molucche nella parte orientale dell'Indonesia. L'evento sismico riportato dall'US Geological Survey è avvenuto a una profondità di 10 km e si è verificato alle 10.24 ora locale. Attualmente non ci sono segnalazioni di danni significativi né di vittime tra la popolazione locale che conta circa 50.000 abitanti. L'Agenzia Meteorologica e Geofisica indonesiana ha rassicurato sul fatto che il terremoto non comporta alcun rischio di tsunami. L'Indonesia è un vasto orcipelago che si estende lungo l'anello di fuoco del Pacifico e particolarmente soggetta a fenomeni sismici e vulcanici. Questa regione è geologicamente attiva dove diverse placche e tettoniche si incontrano e si scontrano è frequentemente teatro di terremoti di diverse intensità. L'Agenzia Meteorologica e Geofisica indonesia L'Agenzia Meteorologica e Geofisica indonesia L'Agenzia Meteorologica e Geofisica indonesia